Cioè sono becchi incredibili Credo ci ha superato il primo Ma cosa fai? Ma dove è lo slano? Cosa devi fare? Allora ragazzi Questa è FNIP Bentornati in questo nuovo video Benvenuti nell'Adventure Challenge Cosa stai facendo? Oggi andremo ad affrontare tre sfide Che vedete là dietro di noi Con tutto il campo addestramento Che ho creato giusto per noi Dove dovremmo fare latte freddo a noi squeak Quali sono le sfide? Dobbiamo passare sopra le ciambelle Pene celesti e gialle Con dietro la sbarra I miei secchi di latte Seconda sfida Slalom fra i birilli Come i casi di Stoner E Valentino Rossi Nel cavatappi Tata con le bacchette cinesi Portando il ghiaccio Poi terza sfida Terza sfida di fare il passo del jaguaro Che si fa così Questo è il passo del jaguaro Devi portare il nesquick al tavolo E poi mettere il nesquick Dentro nel latte freddo Scegherare Tornare indietro Un minuto e Stop Sette secondi Sette coincidenze È lento Comunque inizia Inizia su un cittadino Inizia su un cittadino No 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 3 2 1 Via Giochi senza frontiere Si parte Andiamo Sempre pronto Guarda che bravo contattino Attentalo a far cadere il latte Non ti preoccupare Cioè se lo becchi è incredibile Credo Già superato il primo Che c'è successo? Ok ghiaccio Prendi le bacchette Non deve cadere niente Non ti preoccupare 2 per mano Cosa sta facendo Sta mescolando Sto cercando di prendere il ghiaccio Non riesci neanche a prenderlo Figurati a fare il percorso Ma questo non ammasso Non è il ghiaccio È facile Non è vero Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Attenzione a vedere se cade Attenzione a guardare se cade Qualche impedimento Qualche impedimento Lanciamogli i saci Ce l'ha detto una nonna? Non ci credo È troppo veloce È caduto per terra O ce l'ha fatta? Comunque è passato un minuto ragazzi Solo uno Un minuto Un minuto Deve preparare il nesquick Suore sei lento Muoviti Un minuto e vento Un attimo fa Gli hai detto che era velocissimo Ma sei lento nella parte finale Guarda è lento a preparare Il nesquick Ho capito In cucina non è mai stato bravo Due cucchiai Poi un cubetto di ghiaccio Il ghiaccio? Ma il ghiaccio si mette dopo raga Col cucchiaio? Ma va La cucina di Suri Mi raccomando 200 ml Che se non mi si fa Raga un minuto e cinque Dai Bravo Devo tornare Dove va? Devi andare sotto Devo tornare Quella Col giaguaro dai Parti ai birilli Devi fare tutto allo slalo Ma che brutto Il barman Il barman dei poveri Vai sorri Oh no Ha saltato il giallo Può saltare Devi bere Bevo 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 Ha sciacchierato di più saltando Attenzione Deve bere tutto Fabio la vorrei rivedere Due minuti e diciannove E venti E uno Affoga Affoga Vetti due Stop Con due minuti e venticinque Quanto? Ma non sei fiato per bere alla fine Ah Bea Cos'è la scena? Bravo Sascha Ma è un granchio Guarda Ma è la scensa scusa Spieghi Ma l'ha pure festata C'è l'entrae dentro Questa è scienza? Questa è scienza? Sascha con le bacchette Due Cosa sta facendo? Ma perché? Non lo colpire Cosa? Un giro No Sascha due cubetti Non uno Due? Due Perché c'è lo sconto? No non è lo sconto Con due bacchette Ok Oh bellissimo Dai bravo 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 Guarda il passo Ma gli cade Ma gli cade Ma cos'è? Che sta facendo? Bravo Detro la caraffa Bravo Mi raccomando Uno e sedici Guarda che ci siamo come tempo Liceo assurdo Allora Due cucchiali Ma se puoi leccato il dito Non sceglie Vai dire Però è molto delicato Delicatesse 2,26 Ok Devi ancora tornare indietro Sascha Cubetto di ghiaccio Vedi Lui non è come te Un animale Ma scusa Il cucchiale Cosa cambia? Le mani sozze Lo faccio per te E' fatto? Shaker E corri indietro Dai C'è la porta a casa Ma cosa fai? Rimettila a dentro Vai porta Della Ma cosa sta facendo? Vai dai Il cono Il cono Il filino Devi rimettere a posto il cono Bravissima Vabbè La polessa Alla sera Hai buono Devo vedere Hai buono se scala Bevi Ma cosa sta facendo È un neonato Ma sta spremendo Non ci credo Non ci credo Flore Ti apposto? Flore Si sta riscaldando Con una mano sola Ci ha provato Ci ha provato Flore Flore Si Mi parete lo do così il via 3 2 1 Via Aiuto Ma perché me lo devi da me Un minino sta tenendo No il latte No il dietro Il dietro è latte È caduto il latte ma non è vero ma non è vero allora 22 secondi la tecnica granchio come la mia bravo grazie perfetto così vediamo se è un vero giapponese a te piace il sushi? abbastanza io ho voluto rallentare apposta io ma non è vero hai iniziato a infilzare il ghiacchio perché mi piace mangiare questo due secondi più lo hai fatti apposta è un casino bravo grazie bro non riesci a prendere quello con la destra siamo messi male no che deve esserci il sushi ce li ha tutti e due ma uno è piccolissimo attento alla buca è andata bene ma è un'anguilla è troppo piccolino aiuto come ha fatto ad essere più veloce che è tornato indietro c'è qualcosa che non va non lo so vabbè ma adesso ha difficoltà ricordati le misure le proporzioni due io non sono bravo in cucina due e anche in matematica manco io e Surry tranquillo ok ghiaccio uno di ghiaccio con il cucchiaio 200 ml di latte ora metti il latte col cucchiaio 200 ml 8 qua ho visto un po' di barata 9 7 shakerà e torna indietro ma aspetta ci devi dare ancora il 5 2 ci ho provato le bacchette le bacchette cosa devi fare il rutto dentro il cono dai vabbè l'ha volato pure a sacco ma cosa ma lui aveva la scala ma perchè ha guardato il ghiaccio si è confuso bello 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 come è possibile 2 minuti e 16 6 si no Stefano quanto sta papà che non è ancora partito 6 minuti e 4 secondi come se l'hai fatto partire questo tuo nome quando hai finito tu tu ah perfetto tu lui tu 3 2 1 via vai papà ma cosa fa perchè questa tecnica così questa è la tecnica del gamberè se riesco a mattermi così facciamo gli canestro nei secchi canestro nei secchi attenzione ragazzi no non ci credo non ce l'ha più ok bravo Giuse complimenti stai parlando troppo piano ragazzi si vai il problema è che non ce la farei mai a prenderli stai pensando a qualcosa da farmi sono sicuro no 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 non abbiamo progettato niente non riesco a prendere il cubetto ma cosa state facendo stiamo cercando di prenderlo quello non riesce neanche a prendere ma secondo me guarda sta facendo gli spaghetti ce l'ha fatta ma l'ha preso è caduto è caduto è caduto bellissimo sono troppo sciolti eh ora diamo le scuse se cade adesso mi ammazzo è bellissimo se li cade muoio non dire niente non mi porta a seccia stai zitto ma non sta facendo lo slalom no io l'ho fatta anche io così è passato solo i periglia passare il giaguaro bravo il giaguaro più bello anima orton allora lo prepariamo bene eh eh ti vedo sascia allora latte sicuramente l'hai concentrato abbastanza guarda lì come si impegna io lo faccio bene a differenza vostra sì 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 la maga ci vincere la cucina incredibile bravo metto il ghiaccio vai anche con le mani con le mani e mo che faccio e mo mo niente la ritiri su e riparti o te la porti come sascia eh bravo sì ghostbusters rendi orton ma quello non è il passo secondo me sono sei minuti di penalità comunque sta cosa eh bravo tutto quanto non fiammi fine cosa fine no la cosa vabbè abboniamo il cibo non ho fermato per fortuna ah ok vabbè ma io li avrei abbonati dai papà no ancora no ancora no c'è 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 vai finito vai 10 minuti e 30 10 minuti e 30 10 minuti e 30 dai non è male 10 minuti e 31 il cronometro dice così insomma dai vuoi partire o no vai ma chi c'è lì scusa beh ci devi andare tu zi devi andare tu ma la gara per voi che mi fai perdere tempo marco tu vai fuori 3 2 1 via aspetta non è giusto vai 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 è mea non ho visto falli io vai deve ricerca di recuperare tempo ma non è così ma non è così torna indietro cosa fai questi no 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 stop torna indietro cosa sta facendo che baro guarda cosa li combina adesso vai 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 che il baro vai vai che il baro vai vai che carichi ecco se sta in piedi è posto è bellissimo dai ma cosa stai facendo stai parando di brutto ma non so se è legale quale passo del giaguaro faccio adesso cos'è questa il passo della tartaruga oh mamma mia oh mamma mia ma io ti vorrei dire che devi rifare pure i secchi eh e il giaguaro ah prima il latte mi raccomando eh ma si è voluto perché c'è uno sgabello nesquake due bei cucchiai si inizia da capo ste il cubetto di ghiaccio con le mani anche lui ma non riesce a sentire ah ti stai scollando il tappo c'è che era ma cosa fai dove hai passo il giallo ma non è lo slano bebe no lo stavo per prendere in testa è andata ce l'ha fatto cari amici questo io termina qua io se riuscirò togliermi sto coso di dosso forse servono i pompieri speriamo che il video vi sia piaciuto che vi abbia divertito se così è stato spolliciato commentate condividete se volete partecipare alla sfida per preparare latte freddo e nesquake segrete il link qua sotto in descrizione e chi di voi vincerà passerà una giornata o con noi mates o con Fabi G aspetta aspetta eeeh ho preso già che li bagno anch'io è stato già freddo per lui uno due hai beccato anche me abbiamo finito di scherzare adesso facciamo i calcoli seri ma va tira le somme dai finiamo le somme secondo me eh infatti allora Fabi G te il cono l'hai fatto cadere quindi più 30 secondi ma cosa ha più 30 secondi solo il cono sono tornato indietro per tirarlo sotto sorri sorri che ha fatto cadere non ho fatto niente niente e secondo me il cono tu l'era rotto vabbè un altro sascia tu vabbè la scala è un più la scala scala cono facciamo un minuto e mezzo dai hai fatto cadere la scala l'hai presa sulla schiena hai fatto cadere tutti i birilli hai fatto del cosa a cavolo di cane ma si vabbè hai fatto cosa parli stai allora a te gonfiabili un minuto coni due minuti ghiaccio non l'hai portata scala non hai tornato indietro di nessuno scala sei minuti si ma il tempo che mi avete tenuto fermo laggiù il tempo laggiù e beh effettivamente secondo me ha perso stella beh fa caldo ci sta eh non è male mi sa che tu hai perso